Arriviamo a 10 like, farò altri video Altri video che la tua carriera è bruttissima, ma fatti una tisana, dico io, fatti una tisana Che c'è? Yo, what's up guys, io sono Awe Somm Oggi siamo su un argomento diverso che è tratto dal mio canale Avete presente le persone? Avete presente le persone? Bene, oggi si andrà a parlerare Ciao a tutti ragazzi Già l'ho fatta l'intro, l'ho anche cambiata Ma oggi siamo su Barbie Dreamhouse Adventures È un po' strano per la mia età e anche perché sono maschio Però lo voglio fare perché ne vale la pena Ne vale proprio la pena Diventando VIP La decapottabile è fuori dal garage ed è pronta per partire Tocca la macchina per fare un giro in compagnia Reggiseno, dove? Reggiseno in un orto Raga, battuta del giorno, cosa fa un mafioso in un orto? Semina il panico Sì, si fa Ah, sì Ma perché? Te Solo a te Te beviti anche un drink Mentre ammiri questa Te, zia Ma perché? Qual è il senso di questa cosa? Ecco Cioè, va bene Non ci dilunghia Ah, vuoi Cosa vuoi tua madre? Vuoi questo? Spacco in faccia Oddio, bicchiere flip Drink flip, raga Ho fatto un drink flip Esagerato Ah, questo è Cos'è questo? Soga Mangia, mangia tutto Guarda come Guarda come gli piace Guarda lì come gli piace Ma che Allora, il regalo C'è la camera da letto, zia La camera da Vabbè Ma perché questi discorsi molto Molto belli A quanto vedo Apriamo la tenda Così puoi anche ammirare Il panorama schifoso Con un libro davanti Oddio, libro flip Così a caso E Puoi ammirare anche il paesaggio Cioè questo Bel paesaggio Per le donne Per le donne? Per le donne Ora metteremo Metteremo i broccoli nel forno I broccoli nel forno Insieme a No, allora Stiamo preparando Stiamo preparando I broccoli Insieme a banane Insieme a Peperoni E insieme a mia nonna Allora Credo Dovrei Dovrebbero andare qua Il robot da cucina È il mio strumento di riferimento Per fare gli impasti Per i miei dolci E le mie pizze Basta buttarci dentro Un pacco di farina E azionarlo Puoi stendere l'impasto Usando il mattarello L'hai già trovato? Allora il mattarello Prima cosa Il mattarello Di tua madre Tua madre è mattarello Ma che cavolo c'è nel C'è Boh C'è I miei gesticoli Tra un gesticolo E l'altro E Ah Noi Se entro nel bagno Allora perché in questa casa Secondo me si chiama Barbie Perché sono tutte femmine Tutte Quindi Io che sto giocando Che sono maschio Poi io Sono Io proprio Sono maschio Se vado nel bagno Delle donne Salto qui C'è Ma perché Spiegatemi il se No Stavo Stavo Scherzando C'era una pianta Fai il cazzo Che vuoi A me non me ne frega Qui ci sono Le Le docce E vabbè Oddio Scusa C'è Bellissimo Un bagno di donne Entra un maschio C'è l'amico Delle persone Delle Barbie Insomma Grazie Si chiama Immaginatevi la scena Che il maschio Deve 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 Pisciare E poi Vedete Tipo le tipe Nella doccia Immaginatevi Un po' La scena Ah Ora si Che si ragiona Leva Sto cavolo Di tablet Detto leva Il mio letto È così Comodo Spesso Ci trovo Sopra I cuccioli Raggomitolati Mi sa che Ora sarò Io il tuo cucciolo Il cuore Va bene Perché Sennò C'è Sbagliato Qui dentro Il mio regalo Sei Ma quanti doppi sensi Partono Rega Porca A meno male Che non siete Spero che I miei iscritti Non siano Pervertiti Come me Però qui C'è un Dinosauro Facciamo La La Mascotte Per Fare le Robe Poi c'è Una bacchetta Magica Sì Bacchetta Magica Ah no Quella è una Spada La spada Di Legend of Zelda La mettiamo Lì Poi La palla Di Tutoriality Perché Sembra Eh raga Voi Non lo sapete Ma sembra Sembra La paperella Vabbè La paperella Già sappiamo Dove metterla Ogni tanto Io cerco Di capire Perché sono nato Qual è il senso Della mia vita Anche se vado Dal grande albero Più saggio Del mondo Mi dirà Oh Abbassa Quella voce Da gallina Bene ragazzi Il video finisce qua Se vi è piaciuto Lasciate like Il mio pensiero Il mio pensiero Di mattina Porca P***a Perché Perché Porca Vacca Ah tra l'altro Qui si nota il mio letto Tutto sfatto Però vabbè Bella Allà Grazie.